Salve ragazze, mi chiamo Joe. Sono il proprietario dello studio fotografico Hot Springs Shutter. Come state usando la vostra geovinezza? State inseguendo i vostri sogni? Oppure vi accontentate di qualcosa di meno? Io vi incoraggio a seguire i vostri sogni. Se il tuo sogno è diventare una modella e sei disposta ad affrontare il duro lavoro necessario per raggiungerlo, ho una proposta per te. Lavora con me. Ti fornirò fotografie gratuite. Insieme possiamo imparare, migliorare continuamente e avere successo. Grazie a tutti.